sono passati più di 20 minuti e ribolla non ha ancora perso attrazione per questo masticativo un palco di cervo mi piace molto e non è ancora riuscita a smussare la parte tagliata dove fa vedere la parte interna che è più porosa a differenza della parte esterna che è molto più dura è molto utile che ci siano ben tre tagli perché così il cane riesce ad accedere alla parte interna della conformazione del palco e è più stimolato a cercare di rosicchiarlo se invece ci fossero solo due tagli o addirittura uno il cane si concentrerebbe solo su uno e probabilmente potrebbe anche perdere interesse un pochino più in fretta